Ciao amici, oggi abbiamo passato una bellissima salata qui con Paola Rivetta, conduttrice del TG5, che adesso ci lascerà un messaggio per tutti i giorni. Ragazzi, mettete al centro le cose bene, non vi fate trascinare dei falsi idoli. Vediamo in una società o in una cultura che ci riempie la testa di falsi miti, non vi lasciate trascinare da questo, mettete al centro il cuore e la speranza di un cuore.